Musica Scontro tra bande in centro città per il controllo del mercato della droga 4 le persone che hanno riportato ferite da taglio ad avere la peggio, i giovani di colore Per la prima volta nell'aula a consigliare i candidati della consulta per gli immigrati hanno presentato le liste per ogni paese rappresentato a Sassari La denuncia del consigliere di Forza Italia Marco Ted, 33 milioni di euro attendono di essere distribuiti tra 400 mila poveri sardi fermi da agosto nelle casse regionali e gli assegni del reddito di inclusione Tg di Canale 12, buonasera, ben trovati in apertura, l'avete visto dagli strilli del nostro sommario Partiamo dalla cronaca e partiamo da Sassari Quattro feriti in uno scontro tra bande nel centro storico probabilmente all'origine della lista il controllo dello spaccio della droga Ci racconta tutto Sandra Sanna Non si ferma l'escalation di violenza in città Dopo gli atti vandalici nel cuore del centro storico dove sono state incendiate diverse auto nel primo pomeriggio si è assistito a un vero e proprio regolamento di conti tra bande rivali molto probabilmente per questioni legate allo spaccio di droga Due i gruppi contrapposti, tutti giovani tra i 20 e i 30 anni distinti per nazionalità e per il colore della pelle Bianchi e neri si sono affrontati nel giardinetto di via Torretonda alla chiusura dei negozi intorno alle 14.45 Nella rissa ad avere la peggio sono stati i giovani di colore In tre hanno riportato diverse lesioni da arma da taglio mentre nella banda concorrente solo uno di loro ha riportato ferite ad una mano Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno trasferito i feriti al pronto soccorso per gli accertamenti del caso e le pattuglie della polizia Sono in corso indagini per capire esattamente la dinamica dei fatti e la causa che ha scatenato la guerra tra le due bande rivali Non sono esclusi i provvedimenti giudiziari nei prossimi giorni a carico dei responsabili degli accoltellamenti che potrebbero essere individuati anche grazie alle registrazioni delle numerose videocamere presenti in quell'area Restiamo nel centro storico Installare più telecamere di videosorveglianza e incrementare i controlli lo chiede il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Manuel Alivesi dopo l'atto vandalico ai danni di quattro auto che sono state bruciate sotto la facciata del Duomo di San Nicola Sentiamo Più controlli e un incremento del numero di telecamere per la videosorveglianza è quanto sollecita il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Manuel Alivesi che interviene dopo quanto accaduto due notti fa Quattro auto sono state incendiate davanti al Duomo di San Nicola un raid vandalico sul quale le forze dell'ordine stanno indagando Atti compiuti da Balordi che ricorda Alivesi si verificano ormai con cadenza quotidiana non solo nelle ore notturne Ecco perché occorre procedere tempestivamente all'installazione di meccanismi di dissuasione come ad esempio un efficace e discreto sistema di videosorveglianza Dispiace dover pontualizzare che più volte c'è stato replicato dal sindaco assessore competente che si stava procedendo in tal senso mentre tutto ciò purtroppo non si è mai verificato sottolinea il capogruppo Azzurro L'inerzia dimostrata fino ad ora dall'amministrazione ha avuto come unico effetto che non si è posto ostacolo alcuno a fatti come quello che si è verificato da ultimo Sono episodi che oltre a scoraggiare i residenti o gli operatori della zona blu determinano anche una forte esasperazione in tutti coloro che risiedono, lavorano e che desiderano un centro storico vivibile e frequentabile rimarca Alivesi E ora invece torniamo a parlare del brutale omicidio del femminicidio che si è consumato Nella nottata di ieri rinunciare a mia moglie per me non era pensabile meglio morta Queste le dichiarazioni shock fatte agli investigatori dell'omicida Nicola Amadu Panettiere in pensione di 69 anni di Sassari che due sere fa ha ucciso la moglie Anna Doppio di 64 anni bruciata viva dopo averla riempita di pugni e calci La donna era addetta alle pulizie part time nell'istituto per anziani Casa Serena Oggi l'autopsia sul cadavere L'uomo è da ieri nel carcere di Sassari e domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia alla presenza del sostituto procuratore Emanuela Greco e del difensore di Amadu L'avvocato Letizia Adoppio Anfossi Il re è una giornata da ricordare cambiamo decisamente argomento quella di oggi in aula consigliere a Sassari sono stati presentati i candidati realiste per le elezioni del prossimo 27 novembre dei rappresentanti per la consulta degli immigrati un passaggio importante per l'integrazione in città dagli scranni del parlamentino i candidati hanno raccontato la loro emozione e le loro attese Sentiamo Giornata storica presso l'aula consigliere del comune di Sassari dove si sono riuniti i candidati nelle liste per le elezioni previste per il 27 novembre prossimo della consulta per l'immigrazione 23 candidati suddivisi in 4 liste validate dagli uffici comunali 10 candidati nella lista per l'area Africa 5 nella lista Medio Oriente 6 quelli nella lista Europa e 2 dell'area America Presenti il sindaco e l'assessore Monica Spanedda Oggi presentiamo i candidati alla consulta dell'immigrazione un traguardo importantissimo per la nostra città che vuole dare il segno dell'accoglienza per queste circa 3.700 persone straniere che abitano nella nostra città da anni quindi è un momento importante per l'integrazione e di più soprattutto per la collaborazione La consulta è un organismo consultivo rappresentativo delle comunità straniere sarà formata da 20 componenti per promuovere la partecipazione democratica e solidale alcuni dei candidati hanno preso la parola dagli scranni del consiglio visibilmente emozionati di poter partecipare attivamente alla vita pubblica della città in cui vivono Ali è da 26 anni a Sassari ha detto che il centro storico deve diventare luogo di incontro e non di scontro infatti anche gli immigrati devono essere uniti ha sottolineato anche grazie alla consulta Siam, marocchina, ha detto di essere particolarmente felice come donna e come musulmana di poter partecipare a questa consulta perché la partecipazione della donna alla vita pubblica è solo una ricchezza Il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha fatto un lungo discorso dove ha detto di essere attivo con la questura per risolvere le note questioni con gli immigrati e ha portato la sua esperienza personale in quanto figlio di immigrati nato in Germania e dalla Germania ha vissuto una seconda emigrazione nel ritorno in Italia ritorno segnato dalle comuni piccole discriminazioni per la lingua e la provenienza per questo, ha detto il sindaco, va sottolineato che l'integrazione è prioritaria ricordiamoci che l'America è diventata il più grande paese del mondo grazie agli immigrati Restiamo a Palazzo Ducale novità nel gruppo consigliare del Partito Democratico che ha eletto un nuovo presidente è Carla Fundoni che subentra Giuseppe Masala e che lascia così la guida della quinta commissione consigliare permanente sentiamo Luca Foddai Il Partito Democratico a Palazzo Ducale ha un nuovo capogruppo è Carla Fundoni che prende il posto di Giuseppe Masala L'avvicendamento costituisce un momento di rinnovo degli incarichi di vertice interne alla maggioranza e potrebbe presto trovare seguito in altre situazioni in particolare nelle commissioni consigliari permanenti Nei giorni scorsi ha infatti lasciato la presidenza della commissione lavori pubblici Franco Era del Centro Democratico ma un'altra nomina sarà presto necessaria e riguarderà la commissione cultura, sport e servizi sociali finora guidata dalla stessa Carla Fundoni Il Partito Democratico ha una responsabilità grande nell'amministrazione di questa città quindi sarà doveroso da parte mia con la collaborazione di tutto il gruppo consigliare e del partito di investire o di reinvestire diciamo così e di recuperare quel rapporto per cui i cittadini ci hanno dato questo importante mandato quindi comincerò subito a verificare diciamo così quello che è il percorso di rivisitazione delle presidenze e delle commissioni e poi ripartire subito per quelle che sono ovviamente i progetti importanti che la città si aspetta che questa amministrazione porti a termine colgo l'occasione anche ovviamente per ringraziare chi mi ha preceduto cioè il consigliere Giuseppe Masala e che diciamo così avrò la fortuna di avere ancora al mio fianco in quanto nominato come vice capogruppo del Partito Democratico Il arreddito di inclusione sociale per 400.000 poveri è fermo da agosto nelle casse della Regione Sardegna la denuncia arriva dal vice capogruppo di Forza Italia Marco Tedde Sentiamo Sono scaduti i termini entro i quali la giunta regionale avrebbe dovuto dare il via all'assegnazione del reddito di inclusione sociale La denuncia arriva dal vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Tedde Si tratta di una somma importante 33 milioni di euro che devono essere distribuiti ai sardi senza lavoro e che versano in una condizione di grave difficoltà economica I fondi, secondo quanto afferma l'ex sindaco di Alghero sono fermi da agosto nelle casse della Regione Sardegna La legge era stata approvata mesi fa dal Consiglio regionale, dichiara ancora Marco Tedde e prevede l'erogazione di un assegno sociale mensile per chi riesce a malapena sopravvivere Una misura chiamata al reddito di inclusione sociale che consentirebbe a tantissimi sardi di avere una boccata di ossigeno Un'attesa infinita attacca ancora il consigliere regionale algherese che viola i termini perentoriamente fissati dalla legge regionale Gli uffici regionali, appunto, avrebbero già dovuto avere da circa un mese il via libera dalla Giunta per avviare le procedure per assistere i sardi bisognosi Sono infatti almeno 400.000 le famiglie che sopravvivono a stento mentre si continua a rinviare L'esponente dell'opposizione è deciso a chiedere con tutto il gruppo di Forza Italia che il pagamento degli assegni di povertà sia effettuato entro il 2016 Ed è lutto nel mondo della cultura sarda e morto ieri a Oristano Padre Marco Ardu, per tanti anni animatore a Sassari del Centro Studi Santa Maria di Bethlehem Sentiamo il ricordo di Canale 12 Dal 2013 era tornato nella casa conventuale di Oristano dopo una ventina di anni passati a Santa Maria di Bethlehem dove era diventato un punto di riferimento del mondo culturale cittadino Padre Marco Ardu è scomparso giovedì pomeriggio Un malore improvviso, un infarto, lo ha fatto cadere a terra procurandogli un trauma cranico e facendogli perdere definitivamente coscienza A Oristano animava il centro missionario ma era anche cappellano delle clarisse del monastero di Santa Chiara Nato a Villa Verde in provincia di Oristano nel 1938 dopo la professione perpetua nel 59 nel 65 era diventato sacerdote passando poi gli anni seguenti nelle case in Sardegna dei fratti minori conventuali Arrivato a Sassari nel 94 aveva fondato il centro studio di Santa Maria di cui era instancabile animatore e promotore di eventi e presentazioni Aveva pubblicato diversi libri tra cui quelli dedicati alla storia della chiesa simbolo di Sassari ma anche raccolti di poesie particolarmente apprezzate Curava la bella biblioteca del convento a cui dedicava le ore libere della giornata e dove era facile trovarlo immerso nei libri che sistemava e catalogava con grande attenzione Una seduta di Consiglio Comunale all'Argentiera per fare sentire la vicinanza dell'amministrazione e consentire agli abitanti di esporre i loro problemi all'Assemblea La proposta arriva dal gruppo dei 5 Stelle ma è stata sottoscritta da un folto gruppo di consiglieri Sentiamo Marco Sanna Una seduta straordinaria del Consiglio Comunale all'Argentiera per risolvere i molti problemi della borgata Lo chiede un folto gruppo di consiglieri su iniziativa del gruppo 5 Stelle e si sono fatti portavoce delle lamentere di circa 70 residenti Dopo aver segnalato lo scorso mese i danni causati dalle forti piogge che avevano creato mulattiere impraticabili in alcune strade causato frane dice il capogruppo dei pentastellati Maurillo Murru ora il problema si è aggravato con le piogge dello scorso fine settimana Nel frattempo sono in sorte nuove emergenze come quella del cimitero storico che non ha più posti disponibili per accogliere i defunti anche per altri disagi come la mancanza di servizi quali ambulatori e uffici postali le interruzioni dell'acqua di rete in certi periodi dell'anno i cittadini sassaresi dell'Argentiera si sentono trascurati dall'amministrazione La richiesta di riunire il Consiglio in trasferta non segue i fini polemici, precisano i 5 Stelle ma è importante fare sentire ai residenti che non sono soli e fare toccare con mano ai consiglieri i disagi degli ex minerari A firmare la richiesta di convocazione oltre all'intero gruppo dei 5 Stelle i consiglieri Manuel Alivesi, Enrico Sini, Nicola Lucchi, Giancarlo Carta, Rosanna Arru e Antonello Sasso La richiesta sarà ora presentata all'intera assemblea che dovrà decidere sulla convocazione e sulla eventuale data E ora andiamo a Porto Torres L'amministrazione comunale intende sfrattare disabili dell'associazione insieme dai locali della scuola materna del Villaggio Verde Ci raccontano tutto Mauro Fancello e Argentino Tellini Porto Torres Da 35 anni l'associazione insieme si occupa della tutela dei diritti umani e civili dei portatori di handicap L'associazione ha sede in un vecchio scantinato di Via della Cultura 9 concessa a quei tempi dall'OIACP 20 volontari che seguono con amore e passione nel loro percorso di vita 25 portatori di handicap che nel tempo libero si cimentano in laboratorio, ricami, cucito, composizione e falegnameria Per far questo hanno danni a disposizione un laboratorio nei locali della scuola materna del Villaggio Verde Ora parrebbe che il comune voglia sfrattare disabili da questo locale per istituire una mensa scolastica Iniziativa lo debole ma prima si dovrebbe trovare un'alternativa per i portatori di handicap costretti nel caso a rinunciare ad uno dei pochi svaghi della loro vita Se ne lamenta il presidente storico dell'associazione Valentino Ottaviano Certamente non sappiamo dove andare perché è un locale idoneo e dove andiamo a reperire noi? L'amministrazione comunale potrebbe reperirlo in qualche altro posto, in qualche altra scuola, in qualche altro punto ma noi dove andiamo? Dove mando io i ragazzi a fare falegnameria? Lì c'è il maestro falegname e ci sono anche dei disabili che assistono e fanno i lavori Sono venuti dei politici del comune a dirci di lasciare il locale libero in quanto serve per fare lì una mensa Io ho dato anche copia delle chiavi al comune e ho detto cercateci un locale, trasportate gli attrezzi perché noi non abbiamo i mezzi necessari e noi lasciamo il locale libero Questo è il posto dove lo avevano i ragazzi, altri posti non abbiamo E torniamo in studio per la pagina sportiva In primo piano la Dynamo Lab a caccia della prima vittoria in campionato prepara la sfida domani contro Varese con un amichevole contro il GSD Il servizio di Icorio Vichesu La Dynamo Lab cerca sul neutro di Porto Torres la prima vittoria in campionato Capitan Spano e compagni affronteranno al Palamura a palla 2 alle ore 16 il Varese Necessita fare bottino pieno per guardare con più fiducia il futuro in attesa di poter schierare un pivot che a nostro avviso potrebbe davvero dare il là ad una squadra ben costruita nell'ottica di un campionato con squadre alla portata dei sassaresi I Biancoblu preparano la partita molto intensamente affrontando in amichevole la squadra del GSD Porto Torres con un interscambio lodevole di collaborazione tra le due società che rappresentano l'isola nel campionato nazionale di basket in carrozzina In chiusura sembra davvero vicino l'arrivo di un centro in casa sassarese Grazie Vi auguro una buona serata e un buon weekend Arrivederci